Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. E' terminata proprio in questo istante la partita fra Genoa e Atalanta, terminata 2-1 in favore dei Bergamaschi. Partita molto bella, molto molto viva, da entrambe le parti ci sono viste delle gran belle cose. Il primo tempo è sicuramente stato equilibrato, con un'Atalanta forse un po' più capace di fare male, non è che ha fatto male, cioè ha fatto male nel senso attaccato bene e fatto male al Genoa. Però è una squadra che si vedeva, che appena voleva, poteva riuscire ad andare avanti e essere pericolosa. Mentre invece il Genoa ha comunque fatto un buon primo tempo, ma minore rispetto ad Atalanta. Nel secondo tempo invece mi è piaciuto di più il Genoa, che ha cercato in tutti i modi di arrivare al pareggio, ci arriva a 5 minuti dalla fine con il rigore di Criscito. Viene prima dato rigore a Muriel, che ci stava, e il rigore al Genoa, che era più netto secondo me, però comunque riesce a trovare il pareggio. Poi Duvan Zapata nei minuti di recupero, al 94esimo se non sbaglio, riesce a fissare il risultato sul 2-1 e a portare a casa i tre punti per l'Atalanta. Atalanta come detto ha preparato al meglio secondo me questa partita, facendo anche un pochino di turnover, girando qualche giocatore che magari poteva essere utile nella partita di Martiri, credo, contro la Dinamo per la Champions League. E invece ha fatto anche bene oggi, comunque è riuscito a portare a casa, in maniera anche un po' fortunosa, con un Duvan Zapata spettacolare, secondo me, i tre punti ed è tanta tanta roba. Diciamo che il Genoa, secondo me, quest'anno può fare molto molto bene. Non è stata premiata anche oggi, nel senso che comunque un pareggio era il risultato più giusto, secondo me, per quello che hanno fatto vedere le due squadre in campo. Poi è chiaro che davanti ha un giocatore dell'Atalanta come Duvan Zapata, che anche se una partita oggi non mi è dispiaciuto, però in partite anche non straordinarie, basta che gli dai la palla buona e lui te la butta dentro. E anche se non è buona, ma è mezza buona, potrebbe buttartela dentro, quindi è un attaccante veramente straordinario, veramente uno dei più forti che abbiamo, secondo me, nella nostra Serie A, è veramente tanta roba. Se riuscisse a trovare continuità, sarebbe veramente uno degli attaccanti più forti, punti centrali più forti che ci sono in circolazione, secondo me. Mentre invece per quel che riguarda, un altro giocatore molto interessante è Luis Muriel, che entra e fa veramente lo sfraccelo, cioè è stato veramente assurdo già più volte. Ha dimostrato che anche da subentrato riesce a fare molto molto bene, se non sbaglio è il secondo gol che fa in questa Serie A. Insomma, è un giocatore che può essere utile, perché l'anno scorso comunque l'Atalanta aveva sì Pasaric, che poteva giocare leggermente più avanti, però comunque erano sempre Gomez, Ilicic e Duvan. E avere già un Muriel così, che da subentrato ti può dare le stesse qualità rispetto a un titolare, è tanta tanta roba. Oltre a magari un Marinoski, che può essere utile magari un pochino più avanti. Mi è piaciuto anche tanto Gosens, ha fatto piuttosto bene, rispetto a Tebuer, che mi è piaciuto un po' meno. In realtà avrei dato molto più, diciamo, se avessi dovuto scommettere su uno dei due, avrei dato più a Tebuer. Però non mi ha convinto tantissimo oggi, mentre invece Gosens a me è piaciuto molto molto di più. Deve ritrovare un po' di solidità difensiva, secondo me, l'Atalanta, che ha retto bene per una certa fase di partita in cui il Genoa attaccava tanto, però non mi sembra così sicura come magari lo poteva essere l'anno scorso, in cui aveva trovato i suoi dinamismi, i suoi automatismi, e quindi di conseguenza riusciva a fare meglio. Comunque un'Atalanta che riesce a tenere il massimo, in una partita in cui forse non lo meritava il massimo. Come ho detto, il pareggio era il risultato più giusto, però comunque, ragazzi, vai là a Genova, campo difficile, e riesci a portare a casa tra i punti, quindi solamente i complimenti ti vanno fatti. Detto questo, ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere un piaccio. Se volete un altro video post-partita dopo delle partite delle 15, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo questa partita fra Genoa e Atalanta, e vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Atleta calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa che accada nel mondo del calcio. Questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.